Il mio nome è Folena, Giovanni Folena, e sono presidente di Attoroni APS, un'associazione fondata poco più di due anni fa da ex membri del gruppo teatrale dell'Istituto Manzini di San Doniere del Friuli. La nostra associazione, che comprende per lo più ex membri dell'Istituto, si occupa prevalentemente di attività a sfondo teatrale, e fra queste attività c'è anche Oltre Palio, rassegna per la quale questa sera vi proporremo il trailer di Il Vero Ispettore Hound, il nostro prossimo spettacolo. A parlarci di questo spettacolo saranno i suoi interpreti, alcuni dei loro. Dunque ragazzi, cosa aspettarsi dal trailer di questa sera? Il pubblico andrà a vedere essenzialmente un giallo, un giallo che prende in giro i gialli. Sì, essenzialmente è questo. Il Vero Ispettore Hound utilizza tutti i cliché e gli archetipi del giallo, li mette dentro di sé e crea un sacco di confusione in testa. Alla fine poi però capisci tutto. È bellissimo per quello. A me diverte molto perché Stoppard ti dà un sacco di informazioni, prende e fa pa 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 e alla fine arrivi a me fai... non ho capito. E poi si risolve tutto. È veramente veramente bello. A me diverte... Mi ha fatto divertire alquanto. Il tutto poi comunque è condito da critiche di signori critici che stanno fuori dal palcoscenico, però nel mentre sono anche dentro lo spettacolo. La bellezza di questo spettacolo sta anche nel media teatro che utilizza. Perché abbiamo scelto questo testo? Il cui autore Tom Stoppard è noto forse ai più per il suo Rosencrantz e Gilderstein son morti. Abbiamo scelto questo testo fondamentalmente per una ragione che è l'imprevedibilità di questo testo. A un certo punto, verso più o meno la metà del testo, tutto quello che ti sembrava normale cambia completamente direzione. E da quel punto in poi il testo non sai più che direzione prenderà. Per cui sei sempre lì che leggi e di fatto non sai dove vuole andare a parare fino alla fine. Ed è questo che più di tanti altri testi ci ha convinto. Sono molti diversi temi che si intrecciano all'interno del Berespetore Hound ed è forse questo uno dei motivi anche per cui è stato scelto una delle sue qualità. Abbiamo il tema del giallo che è appunto un tema ricorrente e farà parte di tutta la trama. Un giallo con tutti i suoi stereotipi che viene perciò comicizzato in qualche modo preso in giro. abbiamo poi parti no sense, parti appunto comiche ma anche tragiche e parti che si potrebbero definire filosofiche dato che i critici compiono delle riflessioni su il tema che in realtà è quello principale dello spettacolo, cioè chi è chi. E come in un giallo che si rispetti l'identità dell'individuo verrà messa in discussione fino alla fine e sarà a voi pubblico scoprire la verità. Infine, di che cosa parla il vero Ispettore Hound? RUPPO! Molto bene, molto bene. Non mi sembra il caso di rivelare altro di ciò che andrete a vedere questa sera, quando alle ore 20 potrete assistere all'anteprima del prossimo spettacolo degli attoroni, vale a dire il vero Ispettore Hound.